Nuoto, animazione e tanto altro per i minori del Centro per la Legalità della Cooperativa Sociale Galahad, ospiti questa mattina, 10 luglio, presso la piscina della Rarinantes Salerno. Prima della pausa estiva delle attività laboratoriali, i ragazzi del Centro di Aggregazione di Matierno hanno trascorso una mattinata di svago accolti gratuitamente nel campo estivo della Rarinantes Salerno, presso la piscina Nicodemi di Via Bottiglieri. Tutto questo è stato possibile grazie alla sensibilità dei vertici della Rarinantes Salerno che da tempo collabora con la Cooperativa Galahad, impegnata nelle attività sociali patrocinate dall'assessorato delle politiche sociali del Comune di Salerno, guidato da Paola De Roberto. Ringraziamo la Rarinantes per l'ospitalità e la sensibilità mostrate nell'invito rivolto ai ragazzi del Centro per la Legalità, ha detto la Presidente di Gala dalla giornalista Marilia Parente. Siamo entusiasti per questa occasione di intrattenimento sano per i ragazzini, che conferma la preziosa collaborazione con la Rarinantes avviata già nei mesi passati nell'ambito del progetto su Sportiamo lo Sport, per offrire opportunità formative e ludiche ai più giovani nell'ottica della promozione del loro benessere psicofisico e dell'integrazione.